La macchina è estremamente semplice, palettina in destra per salire, palettina in sinistra per scendere, quando cambi a salire puoi cambiare con gas a fondo, senza problemi, mentre freni, scali le mangi, mi raccomando, sempre una bella frenata che si usa a due volte, per freni, scali, per mezzo in un'altra. La fase di accelerazione inizia sempre quando puoi riallineare il volante, inserisci senza gas, quando puoi cominciare a riallineare il volante, cominci progressivamente a accelerare, freni per me della capa, inserisci, vai vicino all'interno, in questo caso ci teniamo a destra per cambiare un'altra pulpa, ricorda che dove vai interno, cominci a progressivamente a accelerare, Tocchiamo il gas, ci teniamo centrati e freniamo a nuova di fronte, in terza, vado a chiudere senza gas, poi accelero l'interno, in seconda, chiudo bene il volante, comincio in progressione, ad accelerare, in terza, in quarta, in terza, vado a chiudere verso l'interno, Guardo l'uscita, entro in距離amente, accelero, via, in chiudere senza gas, guardo l'uscita, aprirare, in terza, vado a chiudere, 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 in terza, in terza, Heather, in terza, vado a chiudere, in terza, la passiamo a girare senza girare un'attività di una bella frenata un'ottima finita 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 in modo di sacrificare la prima curva perché poi ne abbiamo un'altra via in percorrenza in percorrenza la radio freno bene a ruote ditte dentro la terza tengo abbastanza a destra seconda aspetto ad accelerare quando possa riempire il volante inizio ad accelerare con modo di gas in terza di nuovo ritardo di inserimento senza gas poi in progressione guardando l'uscita apro il volante accelerare guarda l'interno chiudo guarda l'uscita apro il volante e vieni vediamo 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 vediamo